Che cosa si prova in questo momento? Un'immensa emozione, vedere tutta la città in festa e finalmente tutti quanti uniti. L'emozione unica, avevo 5 anni nella presente ma ora è un'emozione imprendibile. Grazie Cittarella, sei grande, sei unico, grazie! L'emozione fortissima, oggi un'edizione ho stato vicino al computer, ho fatto saltare in aria il computer. L'entusiasmo che non si può spiegare con le parole, basta guardare soltanto. Per te è la prima volta probabilmente che vedi la Serie B e una città in festa così, che cosa si prova in questo momento? Stiamo troppo emozionati, è troppo bello. È una gioia in marzo, questa è la seconda volta che lo avete, è il 78, è il 2011, è una cosa bellissima. Grazie a tutti!